Ciao a tutti, sono Flavio Gallarato, l'organizzatore del Vertical Tour. Siamo giunti qui in Calabria e dopo tre giorni qui a Palmi di grande divertimento, grande attività e animazione per tutti, purtroppo questa sera con il giorno di Ferragosto finiremo su questa spiaggia dove abbiamo trovato veramente un mare stupendo e da dopodomani saremo per altri tre giorni a Soverato. Abbiamo scelto quest'anno di portare due tappe qui in Calabria perché davvero il calore che troviamo nelle persone calabresi, l'accoglienza che è seconda davvero a poche regioni qui in Italia. Il nostro tour quest'anno è titolato da Iliad, quindi l'Iliad Vertical Tour, è fatto da otto tappe. Noi partiamo sempre a fine luglio da Lignano Sabbia d'Oro e poi tocchiamo otto città in tutta Italia per portare un po' di svago, soprattutto in un anno come questo, dove arriviamo davvero da mesi di grande difficoltà sulle spiagge e far divertire le persone, portare tanti gadget e tanta animazione. Abbiamo girato come dico tutta l'Italia, siamo partiti dal Friuli Venezia Giulia da Lignano, poi siamo stati a Viareggio, poi Cattolica, Vasto, Castellaneta Marina, quindi diciamo Abruzzo, poi la Puglia e la Calabria e poi finiremo lo suo tour il 22 di agosto a San Vitolo Capo in Sicilia. Il Vertical Tour è organizzato dalla mia agenzia, la Eventsway. Noi siamo specializzati in tutto quello che è l'organizzazione di eventi sul territorio nazionale. organizziamo eventi su piazze, su spiagge, calcolate che poi il Vertical Tour è nato sulla neve e quindi siamo un'agenzia di comunicazione e organizzazione di eventi. Quindi se avete bisogno di organizzare il vostro evento siamo a vostra disposizione. Eventsway.it Grazie a tutti.